Altenza a destra, ok? Quindi due palleggi, me la alzo, vado su un controllo a portare via, poi trasfitto, vai? Ecco, arrivi via, controllo, e diamo, 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 di no fallo a due metri, a destra a destra, eh? Non basta, non troppo alta, proprio lì davanti, lì davanti, ecco lì, ecco lì.